Buonasera Augusto Montaruli dei Fratelli Italia, buonasera Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle, bentornata a Annalisa Chirico, a Francesca Barra e ben arrivata a Beatrice Grazi. Onorevole Sportiello. Qui abbiamo un vaso di Pandora, innanzitutto grazie per questo servizio perché si fa chiarezza finalmente su qual è il ruolo di queste associazioni anti-abortiste, perché quello che sono non associazioni per la vita, perché non esistono consultori per la morte e associazioni per la vita, queste associazioni sono nei consultori, con i camici bianchi colpevolizzano, umiliano, mortificano e trattano le donne come degli esseri non senzienti che non sanno neanche perché sono andate lì e fanno della violenza perché questo è far vedere a una donna quelle immagini, dare delle informazioni senza alcun fondamento scientifico. Una donna, una persona che si rega al consultore ha tutto il diritto di avere la professionalità che all'interno dei consultori trova e che è del personale, sociosanitario, psicologi, ostetiche, ginecologi e tutti quelli che trova lì dentro. Ora, lì nel servizio si vede benissimo, oggi nel nostro paese è già difficilissimo per una donna poter accedere all'interruzione di gravidanza. Io vengo da una regione in cui l'80% dei medici obiettori. Il Veneto 75, Campania. Il Veneto 75, quindi è un problema diffuso in tutto il paese, è chiarissimo che in queste condizioni caricare di un ulteriore ostacolo questo percorso significa non garantire libertà di fatto perché si costringe. Allora, voglio sentire... Non c'è una donna che non ha potuto abortare in Italia. Ah, no, 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 però sono le donne che chiedono l'aborto, che chiedono di poter accedere all'aborto, possono aggerire all'aborto. Non è quello che si legge all'interno dell'emendamento che il governo, inspiegabilmente, o forse una spiegazione da ritrovare nei fondi del PNRR, ha messo proprio nel decreto PNRR. Avete messo questo emendamento a guarda Montaruli, finisco. L'emendamento lo conosco molto bene. Montaruli ha parlato finora, adesso parla lei e poi lei riparra. Non può interrompere perché non si dice niente. L'emendamento prevede, non associazioni... Abbiamo un'ora, quindi c'è tutto il tempo perché lei riparli. Non associazioni a sostegno della maternità, ma io stessa ho chiesto con un atto al governo di specificare che tra queste associazioni non ci fossero associazioni che minassero alle tutele dei servizi che i consultori devono garantire per le donne che vogliono accedere all'interruzione volontaria di cavitanza e mi è stato risposto no, queste associazioni devono esserci. Allora, è quello che vuole parlare. Sto dicendo, la sto correggendo perché se risente il mio intervento, io ho detto che la donna quando ha deciso va a interruzione del consultorio e sa se andare dall'associazione è stata molto chiara. Allora, non avreste dovuto presentare l'emendamento. Allora, scusate quell'emendamento prossimo, però vorrò capire... Siamo tutti fan della legge 194, è una legge che ha reso il paese più libero, più civile, più moderno, ha superato il dramma delle mammane, dei cucchiai d'oro. Non credo neanche che stiamo a discutere, a mettere in discussione il fatto che le donne devono decidere sul proprio corpo e decidere se e quando diventare madri. C'è però una parte inattuata di questa legge e lo dobbiamo dire. Ma è dal 1978 che inattuata. E lo so, sono passati un po' di anni. Adesso improvvisamente nel 2024 dobbiamo attuare questa parte inattuata. Questo che mi lascia un po' percorrere. Ma penso che sia come dire una cosa persino banale. Ci sono donne che obiettivamente abortiscono per scelta e donne che abortiscono per necessità alle quali magari se fosse offerto un supporto anche di natura economica, anche in una fase solo iniziale, nei primi mesi, nei primi anni di vita, perché è chiaro che non è che qualcuno si aspetta che le associazioni si prendano carico dei figli di tutte noi per tutta la vita. Però se anche solo nei primi mesi in cui una donna magari vorrebbe tenere il bambino ma è da sola, non lavora, non ha una famiglia che la sostenga, io dico perché noi proprio come donne dobbiamo essere contrari a questa ipotesi? Ma i consultori ce l'hanno già, non deve essere ascoltare il battito fetale. Perché mi pare che su questo Monterulli e anche il presidente Meloni non ho mai sentito fare discorsi contro le donne su questo. Nessuno deve dire a una donna che ascolta il battito fetale perché così capirai se vuoi abortire o meno. Questo sarebbe inaccettabile e intollerabile. Come obbligatorio fare in Ungheria dove si vuoi abortire e aspettare il battito fetale. Cioè non è che vogliamo fare terrorismo nei consultori contro le donne o cose che esercitano indebiti sulla volontà della donna. Allora, la legge 194 parla proprio del sostegno alla maternità difficile dopo la nascita, l'articolo 2. Ma posso fare una domanda a cui nessuno mi ha dato una risposta. Allora, poi voglio sentire bene. Ma se la legge 194 già prevedeva questo e quindi già esiste ed è inattuata, che bisogno c'era di riproporre e fare ancora una legge per prevedere questo? Ma esisteva la legge, lo bisognava solo attuarla. Allora, evidentemente, questa legge esiste, ma voi avete fatto un'altra cosa ancora permettendo agli antiabortisti di entrare, che è un altro discorso e trovo anche meschino che si dica che queste associazioni private e ideologicamente orientate all'interno di un luogo pubblico e laico debbano dare il sostegno economico, la genitorialità e la serenità per affrontare una genitorialità, sia con lavoro, casa, politiche per la procreazione medicalmente assistita, asili nido che questo governo ha tagliato. Non si può pensare che sia un pacco di pannolini, un passeggino o un aiuto economico estemporaneo a dare la serenità a una persona per fare una famiglia. chi abbia il coraggio di fare politiche serie e allora parleremo di genitorialità. Allora, scusatemi, però andiamo a capirci bene. Intanto specifichiamo che non c'è una donna in Italia che si può fare polemica sui tempi, ma non si può fare polemica e non si può dire che le donne in Italia non possono abortire. perché non c'è una donna che voleva abortire e non ha abortito. Però è difficile. Se voleva abortire, è un po' abortire. Però possiamo dire che i medici sono vittori di casa. Questo tema non esiste, siamo tutti d'accordo. No, abbiamo fatto una donna che voleva abortire e non ha abortito in Italia, portatecelo. Però diciamo che gliel'hanno avviso un po' difficile. Portatecelo. Se deve aspettare, ci sono delle liste d'attesa, che siccome ci sono delle liste d'attesa. Sentiamo che poi devo chiudere e aprire un'altra questione. Quel sondaggio rispecchia la verità e quel sentore non nasce a caso, perché se addirittura in Parlamento europeo, con la risoluzione approvata soltanto qualche giorno fa, si cita l'Italia come un paese in cui questo diritto sta subendo un'erosione continua. Vabbè, ma queste sono le campagne che fanno la sinistra, che danneggiano l'immagine dell'Italia. Allora il resto d'Europa, queste presenze nei consultori vengono chiamate moleste organizzate. Allora, scusatevi per le immagini dell'Italia. Onorevole Sportiello, com'è la pensa in proposito? È giusto avere dei dubbi nella somministrazione di un farmaco che blocca la pubertà? Infatti, ricordavano, viene dato ai bambini che vanno, soprattutto femmine, in pubertà precoce. In questo caso viene dato anche a 11 anni, può essere somministrato, per impedire che si vada verso uno sviluppo sessuale diverso da quello che ci si sente e cominciare quindi molto rapidamente a passare da maschio a femmine e viceversa. Sì, l'Italia innanzitutto è uno dei paesi che con più cautela somministra questo farmaco, perché ci sono delle linee guida stabilite dall'AIFA, dal Comitato di Bioetica, che appunto indirizzano le modalità con cui questi percorsi di affermazione vanno avanti. Tanto è vero che nel nostro paese soltanto l'1% dei casi viene trattato con triptorelina. Le testimonianze sono eloquenti e in particolare, Zoi, vorrei ringraziare tutte queste ragazze che hanno condiviso con noi la loro storia, perché penso che siano tra tante cose che si raccontano le persone che debbano prendere voce per raccontare come stanno le cose. Ci ha raccontato di quanto sia un farmaco salvavita e non lo fa solo, Zoi, perché in quei casi in cui ci sono anche delle ipotesi dei rischi suicidari, questo farmaco, come sostengono 12 società scientifiche, non 12 persone, ma società scientifiche autorevolissime del nostro paese, che hanno sottoscritto una lettera per salvaguardare questi percorsi di affermazione e l'utilizzo della triptorelina. Quindi lei è favorevole, diciamo, al che continui la somministrazione? Io seguo la scienza, la scienza adesso ci dice che questi percorsi sono assolutamente reversibili, sono sospensivi. Perché il Regno Unito, il governo inglese, avevieta la somministrazione di questo farmaco sotto i 18 anni, sulla base di un rapporto di pochi mesi fa, fatto da una commissione di scienziati ed esperti, non siamo noi e noi lei, ma una commissione indicata, nominata dal Ministero della Salute Inglese, che ha detto proprio che bisogna bloccare la somministrazione di questi farmaci agli under 18 perché hanno conseguenze reversibili sulla salute umana, perché ci sono una serie di variabili, perché incidono spesso, è vero, su situazioni di scarsa salute mentale. Cioè ci sono dei ragazzini che hanno problemi di salute mentale e che anziché avere un sostegno psichiatrico e psicologo non si ritrova con i fatti. Allora, lei lo sa di con il Regno Unito. Però, lei lo sa di con il Regno Unito. Aspettate, però, ci sono delle paesi. Come si fa a chiedergli lì? Allora, innanzitutto... Perché sarebbe veramente rovinoso per loro, no? Ce l'hanno detto... Cioè si può pensare alle nuove, ma non a queste... Il protocollo è questo, la sostanza particolare. No, innanzitutto l'OMS... Aspettate, ho detto un minuto per uno, poi chiudiamo. Allora, velocissimamente, uno, l'OMS da anni ha dichiarato che non si tratta di incongruenza di genere, non è una patologia della salute mentale, ma è una condizione sessuale. Quindi queste persone, non è come è stato detto, mi dispiace, ma persone che hanno problemi psicologici, se hanno delle sofferenze, se hanno una condizione così sofferente per lo stigma e per come vengono colpevolizzate, due, in Gran Bretagna su 4.500 casi, 2.500 sono stati trattati con triptorelina in un anno, quindi ha una condizione completamente diversa all'Italia. 3. L'appello delle comunità trans è che nel tavolo che si farà il Ministero della Salute e il Ministero della Famiglia prendano parola anche loro, e che non si decida sulle loro teste e sulle loro vite qualcosa che ricadrà sulla loro situazione. Intanto queste persone stanno facendo questa transizione grazie a un protocollo che esiste. Se ci sono state delle lacune nel protocollo, non si torna a far applicare il protocollo. Però non è quello che sta facendo il Governo. Il Governo sta facendo la...